Ben ritrovati come sempre su Rete7. Guardate, questo il ciclone che sta investendo nelle regioni meridionali, in parte anche nelle regioni centrali, e che ormai gradualmente si allontanerà. Da noi, lo sappiamo, non abbiamo avuto delle piogge, non abbiamo avuto dei fenomeni in quest'ultimo periodo e purtroppo la situazione non cambierà nemmeno nei prossimi giorni. Saremo lambiti nuovamente d'aria fredda tra domenica e per l'inizio della prossima settimana, ma ancora una volta con ogni probabilità senza particolari effetti, con poche nuvole, quindi con cielo prevalentemente sereno ed anche appunto venerdì cielo sereno o poco nuvoloso. Un'altra bella giornata, un inizio di fine settimana bello, sempre con possibili gelate a risveglio, valori anche prossimi allo zero al mattino, quindi parliamo delle temperature minime, temperature massime comprese tra gli 11 e i 13 gradi. Sulla costa, ovviamente, in Liguria, valori leggermente meno freddi, un po' più alti, valori comunque attorno ai 14-15 gradi. Io, cari amici, ho concluso, vi auguro di trascorrere un buon weekend. Arrivederci! Ciao!